Allora a questo punto la parola in conclusione all'avvocato Todino che ci parlerà di linee generali della Commissione europea. Prego. Grazie Presidente. Io mi limiterò a fare qualche considerazione sulla direzione che l'azione della Commissione sta prendendo negli ultimi due anni con l'avvertenza che i temi a cui accennerò saranno poi sviscerati e scandagliati nei vari panel settoriali e forse vi anticipo anche, scusate farò un discorso un po' disorganico in ragione alla brevità dei tempi, vi anticipo un pochino quella che è la mia tesi di fondo e cioè che mi sembra che di nuovo la Commissione stia riuscendo in qualche modo a dare una risposta in termini di modernizzazione, di ridefinizione dei propri obiettivi nell'esercizio dell'azione di enforcement che dalla prospettiva di un'autorità di vigilanza mi sembra adeguata. Dopodiché quello che vedo di meno è un dibattito sul livello complessivo di enforcement delle regole di concorrenza, cioè io riscontro un inasprimento dell'applicazione delle norme antitrust, un inasprimento delle sanzioni, un innalzamento del rischio di impresa per effetto un pochino del cumulo dell'applicazione cumulata, della tutela pubblicistica a livello europeo, a livello nazionale e poi del private enforcement, cioè della tutela privatistica. Allora vediamo più in dettaglio perché che cosa è cambiato in questi anni, cioè in che misura si è modificata l'attività di enforcement della Commissione, come dicevo a me sembra che ci siano modifiche abbastanza importanti. Per cominciare le priorità relativamente alle aree di intervento, cioè ora vediamo gli abusi nell'high tech, le intese nel mondo digitale, nel commercio elettronico, le concentrazioni che danneggiano l'innovazione, queste sono tutte novità. Poi vediamo una modifica, secondo me, dello strumentario che è rilevante, che non si vede troppo, cioè relativamente alle tecniche investigative. Questo è molto visibile nelle concentrazioni dove ora la Commissione si è un po' smarcata dal form CEO, dal formulario, per cui le indagini sono molto focalizzate sulle richieste di informazioni, sulla raccolta dei documenti interni. E quindi questa mi sembra un'altra novità. Tra l'altro anche nell'indagine dei cartelli mi sembra che ci sia una nuova tecnica investigativa, perché, e questo lo sottolineava prima l'amico fattore, vediamo che da un lato si riducono le istanze di clemenza, però dall'altro la Commissione ora fa sempre più ricorso ad altri strumenti investigativi. Sembra che abbia addirittura messo in piedi una task force per indagare le varie intese nel mondo digitale. C'ha questo sportello dei delatori che utilizza per identificare gli illeciti anticompetitivi e tra l'altro sembra che ora si coordini molto di più con le autorità nazionali per organizzare poi anche l'allocazione dei casi. Quindi mi sembra che ci siano grandi novità. E poi gli standard di valutazione. Se pensate di nuovo alle concentrazioni, vediamo che i famosi gap case, tutti questi casi in cui la Commissione interviene in assenza della Costituzione o rafforzamento della posizione dominante, il pregiudizio all'innovazione, secondo me è un nuovo test valutativo e anche nell'analisi dei rapporti competitivi diretti, secondo me qualcosa è cambiato, cioè la soglia di intervento si è un po' abbassata. Ma provando ad entrare ancora un po' più in dettaglio proprio nelle concentrazioni, per cominciare dalle concentrazioni, facendo così un rudimentale raffronto tra quello che succedeva qualche po' di anni fa e quello che accade oggi a Bruxelles. Noi vediamo qualche anno fa, 5-10 anni fa, vedevamo principalmente delle indagini di cartello su impulso di stanze di clemenza, quindi se andiamo 10-5 anni fa si vedevano soprattutto questo tipo di indagini. Pochi abusi, perché in realtà dopo la riforma con l'entrata in vigore delle linee guida già nel 2007, sostanzialmente la Commissione ha assunto un'impostazione, un approccio molto più basato sull'analisi degli effetti, un'analisi più economica e quindi si sono molto ridotte le istruttorie sugli abusi e poi un'attività in materia concentrativa sempre sostenuta, ma diciamo con l'introduzione del nuovo test di valutazione delle concentrazioni, ma con un'analisi potremmo definire mainstream, cioè abbastanza convenzionale. Ora se invece, come dicevo, guardiamo quello che succede oggi, ci troviamo con un aumento esponenziale del numero dei gap cases e di nuovo quindi sono, ripeto, quei casi in cui la Commissione riscontra un problema di concorrenza in assenza della Costituzione nella posizione dominante, cioè quando si mettono insieme il terzo e il quarto operatore che non diventano dominanti e quindi il quesito da porci è ma sono cambiate le condizioni di mercato oppure è cambiato lo standard della Commissione applica, perché è pure un po' curioso diciamo che fino a qualche anno fa questi casi si contavano proprio sulle punte delle dita e oggi, negli ultimi due o tre anni, c'è tutta una striscia seriale, tra l'altro che ha interessato pure alcuni comparti dell'economia come quello delle telecom, ma poi la grande rivoluzione la vediamo nell'approccio all'innovazione, fino a qualche anno fa quando si valutava l'innovazione sostanzialmente si andava a guardare la concorrenza potenziale, cioè si verificava se l'impresa oggetto acquisizione avesse nei propri programmi di ricerca e sviluppo dei prodotti in fase molto avanzata, in fase terminale di sviluppo, i quali sarebbero diciamo in un orizzonte temporale breve, non più di due anni, entrati sul mercato e avrebbero questi esercitati un forte vincolo competitivo sui prodotti dell'impresa acquirente. Oggi non solo nei casi più recenti, Daudiupont è forse l'esempio più illustrativo, non solo la Commissione ha dilatato l'orizzonte temporale, entro cui il concorrente potenziale può fare il suo ingresso sul mercato e esercitare il vincolo competitivo, ma si è smarcata completamente dal tema dei prodotti delle pipeline e quindi fa un'analisi un po' in senso lato dell'impatto negativo sull'innovazione e quindi questo è anche, mi sembra, una grande rivoluzione di uno standard valutativo importante. L'altro aspetto che secondo me va sottolineato nelle concentrazioni è la modifica a margine del modo con cui la Commissione valuta i vincoli competitivi diretti, cioè il quesito è per vietare una concentrazione io devo provare che sto eliminando un concorrente diretto o il concorrente principale. Sto ovviamente semplificando e tutti questi temi poi saranno sviluppati nelle sessioni tematiche, però oggi alla luce di alcuni precedenti della Commissione è chiaro che la Commissione si è attestata su un livello di prova di standard probatorio più basso, per cui anche la rimozione di un concorrente diretto, senza che vi sia necessità che questo sia il principale concorrente, è sufficiente per determinare in effetti una restrizione alla concorrenza. Sul piano procedurale è cambiato tanto, la Commissione ora persegue in maniera sistematica il cosiddetto gun jumping, cioè i casi di implementazione prematura delle operazioni di concentrazione, i casi di informazioni fallaci o informazioni incomplete, irrogando pesanti sanzioni e delle nuove tecniche investigative in materia di concentrazione, già vi ho detto. Passando molto brevemente alle intese, come vi dicevo, oggi quello che vediamo è che c'è un decremento del numero di cartelli a livello europeo, abbastanza chiaro, quantomeno cartelli avviati su impulso delle istanze di clemenza e questo deve farci un po' riflettere sul fatto se poi non ci siano alla fine degli effetti collaterali discendenti dall'entrata al regime della direttiva d'anni e quindi un pochino questi spillori effetti di cui si temeva tanto, cioè il fatto che la tutela privatistica entrando al regime in qualche modo scoraggia le istanze di clemenza. Secondo me questo è un aspetto importante che è stato sottovalutato perché si credeva di aver trovato la quadra di tutto il sistema. Nello stesso tempo vediamo un aumento esponenziale di tutta questa casistica di cui la Commissione ora si occupa relativa al commercio elettronico, quindi grande enfasi sui casi verticali, sui casi moderni se volete di fissazione del prezzo verticale, del prezzo di rivendita tramite anche strumenti software e algoritmi che consentono meglio, cioè più facilmente di monitorare le condotte a mercato, in particolare nel commercio online e poi si occupa ora la Commissione in maniera molto continua direi di tutta questa casistica legata alle restrizioni territoriali, quindi il geoblocking è un altro tema di grande attualità. Poi c'è l'abuso di cui ha parlato l'amico Urassani, quindi non ne parlo neanche, però anche qui è cambiato il mondo perché la Commissione ora si occupa, diciamo, negli ultimi due anni, abbiamo visto tutta una serie di indagini che si concentrano nei mercati dell'high tech dove ormai la Commissione si è convinta che ci sono condizioni strutturali, diciamo, idonee all'accumulazione del potere di mercato per cui bisogna intervenire con grande vigore, tant'è vero che ci sono tre casi nei confronti di Google. Quindi l'altro aspetto, secondo me, con questo concludo Presidente, l'altro aspetto rilevante che volevo sottolineare è che nel contempo si va verso questa convergenza procedurale con l'adozione della direttiva ICN Plus con cui sostanzialmente sono stati armonizzati i poteri istruttori, i poteri sanzionatori e l'indipendenza. Ora questa direttiva a noi, secondo me, l'autorità garante ci interessa in maniera abbastanza limitata perché come modello di enforcement poteri sanzionatori, poteri istruttori ce li avevamo più o meno tutti e interessa altre autorità. Però io qui pongo un tema diverso che è il tema, secondo me, che non è stato affrontato della convergenza sostanziale. Cioè la Commissione si è preoccupata e si sta preoccupando di spingere per la convergenza dei poteri sanzionatori e istruttori ma non si preoccupa sufficientemente di coordinare l'interpretazione conforme del diritto alla concorrenza. Che cosa voglio dire? Voglio dire che secondo me le autorità nazionali e la Commissione dovrebbero giungere a una visione comune di che cosa rappresentano le ipotesi violative del diritto alla concorrenza. Siamo tutti d'accordo su quali sono gli elementi costitutivi di una pratica scontistica perché questa sia considerata abusiva. Il test del prezzo, il test del competitore efficiente va applicato obbligatoriamente come dice Intel oppure è superfluo come diciamo ci insegnano alcuni precedenti anche dell'autorità. È uno scambio informativo. Quando è che può essere considerato restrittivo per oggetto e trattato come un cartello e sono sufficienti elementi esogeni o ci vogliono anche elementi endogeni per provare l'esistenza di uno scambio informativo che assume la veste di un cartello. Quindi questi sono tutti grandi temi su cui secondo me la Commissione con le autorità nazionali dovrebbe interrogarsi e cercare di realizzare un mondo più coerente anche a livello sostanziale. Grazie.